Allora, ciao! Mi chiamo Lucrezia Parodi, sono di Savona. Per me l'inclusione è far parte di gruppo faccio stare bene tutti i nuovi amici che vengono nei gruppi. Dove sono io? Hello, I'm Chiara, I'm from Italy and I'm partner in Special Olympics Team. For me inclusion is when everyone has equal opportunities for trout and expression and when people can all collaborate together without barriers and obstacles. One tool to promote inclusion is sport. For me is the best tool to promote inclusion. I to promote inclusion I spread among my peers the importance of including everyone, no one excluded, throughout activities without barriers and obstacles. Io cerco di parlare con tutti, di fare le cose insieme, di organizzare una pizza insieme.